Carissimi amici del canale YouTube Telegram, dentro la notizia, quest'oggi abbiamo il piacere, il grande piacere di avere con noi il noto giurista, professor Ugo Mattei. Benvenuto Ugo. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, in questa occasione Ugo vorremmo fare chiarezza su una questione fondamentale, direi di vitale importanza. Da tempo si parla di obbligo vaccinale e costituzione. A mio avviso un articolo determinante è l'articolo 32 che recita la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora, prima di darti la parola, Ugo, facciamo un po' la storia dell'articolo 32, visto che è dall'anno scorso che ne parliamo e ancora c'è qualcuno che fa orecchi da mercante e non vuole capire la situazione con me esattamente. Evitiamo che si stravolga il senso di questo pregevole articolo che tutela i diritti umani del singolo individuo e in secondo ordine i diritti della collettività. La discussione dei padri costituenti riguardo questo articolo si soffermò sul secondo comma, la cui formula venne approvata allo scopo di vietare le tecniche sperimentali di cura senza l'esplicita accettazione da parte del paziente. La locuzione, se non per disposizione di legge, era riferita ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute pubblica, come per esempio le vaccinazioni. Ma anche in questo caso i costituenti vollero rendere esplicito il divieto a superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. È così, Ugo? È assolutamente così. Quella era la temperia culturale in cui fu introdotta anche la dignità umana all'articolo 1 della Costituzione tedesca, proprio a seguito di quelli che erano stati gli orrori delle sperimentazioni naziste nei campi di sterminio. Subito dopo la guerra, come sapete bene, ci fu il cosiddetto codice di Nuremberg, nel senso che a seguito del processo di Nuremberg vennero stabiliti alcuni principi tra i quali il più importante in assoluto era il divieto della sperimentazione umana. La Costituzione italiana, come le costituzioni di quel periodo lì, riflette quell'atteggiamento e devo anche dire che fin qui la Corte Costituzionale ha sempre fatto un buon lavoro, tutto sommato, nel mediare le difficili questioni che sono coinvolte. Perché anche rispetto all'obbligo vaccinale dei ragazzini a scuola, quelli della famigeratissima intervento della Lorenzin del 2017-2017, alla fine si trovò un accomodamento, una mediazione. Ci fu una multa, ma non si esclusero i bambini dalla scuola. Questa volta invece siamo andati molto oltre perché il fatto di colpire non soltanto con una sanzione intere categorie della popolazione, come i medici o coloro che hanno compiuto gli anni 50 di età, o ancora le forze dell'ordine, o ancora quelli che lavorano nel comparto scolastico, si è utilizzato un apparato sanzionatorio che è di per sé stesso lesivo della dignità umana e della dignità della persona, che è sostanzialmente l'apparato sanzionatorio del ricatto del lavoro. Quindi la situazione attualmente è davvero assai poco accettabile dal punto di vista costituzionale. Il problema è che possiamo fare qualsiasi discorso relativo all'interpretazione del testo costituzionale. Si troverà sempre qualche giurista disposto a dire che mai in fondo il diritto della persona e l'interesse pubblico sono sullo stesso piano, anzi il primo deve sottostare al secondo. Insomma, questi sono ragionamenti, argomenti che escono dalla cultura giuridica e spesso vengono portati avanti in modo chiaramente volto a stravolgere quello che è il significato profondo di questa norma, anche perché noi dobbiamo tenere conto del fatto che ci sono state delle violenze anche terribili rispetto alla questione del consenso informato, perché il dispositivo è stato sostanzialmente quello di non mettere l'obbligo in determinati casi o anche quando c'è l'obbligo di sostanzialmente farti prestare il consenso prima dell'inoculazione. Tutto questo non va bene, nel senso che tutto questo è certamente contrario alla dignità. Far perdere il lavoro alle persone, ricattarle col cibo è qualcosa che va ben oltre quelli che sono i paletti della Costituzione. Bene, io penso che possa essere utile andare a sentire quello che diceva un padre della Costituente sui motivi che hanno poi portato a scrivere questo articolo. E quindi penso che chi meglio dell'onorevole Aldo Moro può spiegare le corrette finalità del secondo comma. Moro disse, si vuole soltanto vietare che la legge per considerazioni di carattere generale e di male intesa tutela degli interessi collettivi disponga un trattamento del genere. In questo caso Moro si stava riferendo alla pratica della sterilizzazione. Poi proseguì dicendo, i casi invece di carattere generale da applicarsi a tutti i cittadini devono essere disposti per legge entro quei determinati limiti di rispetto della dignità umana. E come accennavi, Ugo, qua di rispetto per la dignità umana ce n'è ben poco mi sembra. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram dentro la notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Prima di concludere volevo ringraziare la Chiani Life che in collaborazione con la H-Price porta in Italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto e del dottor Willem Reich, l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di H2O e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua. La Chiani Life quando ha saputo che YouTube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Telefonate in azienda per chiedere informazioni riguardo il bonus idrico. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 130.000 iscritti divenendo così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo più forza avremo. Unitesi vince! Un abbraccio dal vostro Roby